Il aeroporto di Venezia, in partenza, buono Emirates. Un mare, un mare. Mia. Sì Dubai Mall l'inferno per i papà Cos'è che vuoi? Io la voglio una... Ma figurati La mia piccoletta Io vi faccio Un pezzo! Mi sta rumpendo il vetro, aiuto! La rumpendo il vetro di nuovo! Ciao! 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 Mama! If you want to touch, please wash your hands first. a 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